Il processo Moro 32 ergastoli per gli imputati maggiori applicata la legge sui pentiti la sentenza accolta con voluta indifferenza dai duri toni più distesi tra i partiti della maggioranza dopo l'accordo sul costo del lavoro a Bruxelles le decisioni sugli euromissili confermate dai ministri degli esteri europei è fallita la conferenza dell'OPEC non sarà ridotta la produzione del petrolio una via della droga anche a Firenze sequestrati 80 kg di eroina destinati agli Stati Uniti Buonasera, il processo Moro è finito è finito senza sorprese cioè con l'accoglimento della maggior parte delle richieste del pubblico ministero ma la sentenza letta questa mattina è scritta da otto giudici due togati come si dice cioè magistrati ma sei erano cittadini come noi, come voi è una sentenza importante il processo Moro che in realtà era il processo contro gli anni di piombo imposti dalle Brigate Rosse a Roma e al Paese con una lunghissima serie di omicidi ferimenti e violenze è stato il processo più importante portato a termine dallo Stato contro un gruppo di pseudo-rivoluzionari certamente non tutta la verità è stata conosciuta con questa sentenza con questo processo sul caso Moro basti ricordare qual è stata la prigione di Moro se la vita di Moro poteva essere salvata tanto è vero che è in corso su altri misteri una quarta istruttoria ma i 32 ergastoli inflitti questa mattina in primo grado sono comunque uno dei punti fermi più sofferti sui cui si è giunti in questo Paese nella lotta al terrorismo in nome del popolo italiano 32 ergastoli dunque due in meno di quelli richiesti dal pubblico ministero Niccolò Amato ma c'è un altro dato da sottolineare subito la Corte ha anche applicato in pieno la legge sui pentiti ma veniamo alle condanne ergastolo per il capo delle Brigate Rosse Mario Moretti che guidava i componenti del gruppo che tese l'agguato di Fiafani ergastolo per Prospero Gallinari indicato come l'omicida di Aldo Moro ergastolo per Laura Braghetti la carceriera del leader democristiano ergastolo anche per i dissidenti Valerio Morucci ed Adriana Faranda malgrado da tempo avessero dichiarato di considerarsi fuori dal concetto della lotta armata ergastolo anche per altri brigatisti di cui anche se non è stata accertata la partecipazione attiva alle imprese delittuose tuttavia nelle Brigate Rosse c'erano con compiti organizzativi e logistici è prevalso quindi nella Corte il principio della responsabilità collettiva chi è stato nelle Brigate Rosse è coinvolto in tutti i reati da queste rivendicati ed è così che è scattato per questi il massimo della pena e veniamo ai pentiti la Corte come si diceva ha applicato in pieno la legge Savasta ed Emilia Libera hanno avuto 16 anni ma la Corte nel calcolo degli anni di pena ha applicato il massimo previsto secondo la legge Savasta e la Libera potevano essere condannati da 8 a 16 anni hanno avuto 16 anni e veniamo ai dissociati pene severe la Corte ha accolto il principio del pubblico ministero che non li considerava tali cioè dei dissociati per l'inesistente apporto collaborativo dato alla giustizia riconosciute soltanto le attenuanti generiche le pene per questi imputati dai 16 ai 18 anni Ave Maria Petricola la vivandiera delle Brigate Rosse è una pentita che contribuì a far luce sui molti misteri delle Brigate Rosse a Roma e a far individuare molti degli appartenenti alla colonna romana pur condannata a 7 anni resterà invece in libertà la Corte non ha revocato il provvedimento di libertà vigilata pene pesanti anche per gli imputati minori oltre i 10 anni di reclusione la Corte anche a quelli facenti parti di un gruppuscolo che aspirava a far da fiancheggiatore delle Brigate Rosse ha dato pene superiori ai 10 anni è scattato per questi imputati la condanna prevista per i reati associativi una quarantina gli imputati alla lettura della sentenza divisi impentiti dissociati e duri decine di giovani ormai logori di appannati che negli ultimi 5 anni hanno ammazzato sconvolto la vita di un intero paese destabilizzato l'equilibrio pubblico e privato di milioni di italiani come accoglieranno la sentenza quale atteggiamento avranno questa è la domanda che ci si poneva nella grande aula del foro italico alla lettura del dispositivo quando il presidente Santi Apichi ha cominciato a sgranare il rosario dei numeri degli articoli del codice e la parola ergastolo ripetuta più volte per 32 volte esattamente i brigatisti si sono divisi anche nei loro atteggiamenti i cosiddetti duri hanno mostrato un sospetto di stacco una voluta indifferenza dando le spalle alla corte si sono ammassati gli uni sugli altri conversando a bassa voce e ridendo un atteggiamento di scontata infantile sfida che mascherava la loro impotenza di reagire in qualche modo alla sentenza anche con uno di quei confusi e velleitari proclami tipici delle Brigate Rosse che avrebbe rivelato un residuo di ipotesi politica nel loro passato nei loro delitti al centro del gruppo c'era quel prospero Gallinari che premette più volto il grilletto della sua Scorpion sull'onorevole Aldo Moro gli sguardi dei giornalisti gli obiettivi dei fotografi le cineprese erano tutti puntati su di lui sull'esecutore sul killer sull'uomo che osò materialmente seguire l'assurda sentenza Gallinari mostrava indifferenza di stacco quasi che la sentenza non lo riguardasse Mario Moretti il cervello delle BR operanti durante il Casomoro se ne stava distaccato ed appariva il più consapevole della drammaticità del momento ci ha tenuto soltanto a precisare di non essersi dissociato non un cenno di consapevolezza comunque in tutti gli altri imputati presenti si aveva così netta la conferma che più che in un progetto politico essi si tuffarono nel terrorismo come in una notte brava di sangue di furore omicida la loro voluta marcata indifferenza di stamane nell'aula del foro italico ha confermato tutti i limiti e la follia del progetto delle brigate rosse pentiti e dissociati hanno invece reagito in maniera appena polemica Antonio Savasta la Anna Laura Braghetti ha gridato contro di lui ti rimane di tradire soltanto tua madre Savasta si è assunto il ruolo di difensore degli imputati minori la sendenza ti aspettavi di più o di meno è normale è normale ti pare normale si ti pare un po' deluso no no per i dissociati non è stata applicata la legge per i dissociati e questo è un po' un problema ma Moretti non si è dissociato si è dissociato libera e tu no secondo me va bene il problema gli imputati minori hanno dato pene troppo pesante ai minori per te va bene si per me va bene uno dei brigatisti dissociati Arnaldo Mai condannato a 18 anni ha espresso invece la sua delusione ma la sentenza secondo me ha degli aspetti estremamente negativi sulla logica del concorso morale nel senso che qui si è voluto schiacciare tutti quanti non sulle responsabilità dei singoli ma schiacciarli sulle responsabilità collettive qui c'è stato questo tipo di problemi Valerio Morucci che con Adriana Faranda si era opposto all'esecuzione di Aldo Moro e che ha promesso rivelazioni alla commissione parlamentare che indaga sull'assassinio del leader della DC se l'è cavata con una battuta rinviando ancora una volta la sua confessione la sentenza il problema esclusivamente è fuori il risolvere l'aula e il tribunale e dove si risolverà in commissione è un problema fuori ma parlerai in commissione in aula dei familiari delle vittime della furia omicida delle BR c'erano soltanto le sorelle del colonnello Varisco sull'altro fronte il padre di Valerio Morucci insoddisfatto delle conclusioni del processo ha imprecato contro la giustizia un processo storico dunque conclusosi in sostanza senza neppure una residua formale capacità degli imputati di una risposta ideologica a decine di delitti che ora appaiono semplicemente assurdi e veniamo a un altro fatto storico su un piano molto diverso di cui parleremo a lungo si tratta dell'accordo sottoscritto tra governo imprenditori e sindacati nella notte fra sabato e domenica gli effetti di questo accordo non dovrebbero tardare a farsi sentire ed è un generale opinione che si è atteso un miglioramento generale del clima sociale nel paese e delle relazioni industriali in fabbrica ma questo accordo prima di essere un fatto senza precedenza nei paesi industrializzati è soprattutto un importante fatto politico italiano come incide nel clima tra i partiti della maggioranza di governo e tra la maggioranza e l'opposizione sentiamo da Montecitorio Mimmo Liguoro l'accordo il posto ha portato una buona dose di serenità nei rapporti tra i partiti di maggioranza anche oggi dall'area governativa sono arrivati giudizi positivi la sensazione di un clima politico migliore è avvalorata per contrapunto dalle stesse parole del deputato Eliseo Milani capogruppo del Pdup un partito d'opposizione negativo l'accordo dice Milani che però allontana la prospettiva di elezioni anticipate sul giornale della democrazia cristiana Il Popolo Galloni ripete che il governo ha dimostrato la sua coesione e ricorda che questo accordo ha trovato un giudizio favorevole da parte del partito comunista dunque argomenta Galloni si estende l'area dei partiti che possono politicamente garantire la gestione dell'accordo da parte comunista c'è un articolo di Chiaromonte arrivano indicazioni di linea il partito comunista dice Chiaromonte ha operato per evitare l'accutizzarsi dello scontro sociale ritenendo giusta la difesa del valore reale dei salari ma contro la manovra economica complessiva del governo l'opposizione del partito comunista sarà sempre ferma e decisa un confronto aperto sui problemi economici Chiaromonte lo sollecita a tutte le forze della sinistra in particolare al partito socialista giovedì o venerdì il consiglio dei ministri darà veste di legge ai provvedimenti relativi all'accordo e la parola passerà alle camere si può prevedere una discussione serrata domani il quotidiano del partito repubblicano con un articolo ispirato da spadolini criticherà gli accordi firmati dal governo giudicandoli troppo onerosi per la finanza pubblica dunque oltre alla soddisfazione per l'intesa raggiunta nella maggioranza si guarda alle prossime prove parlamentari del resto osservando in filigrana le stesse dichiarazioni dei leaders della maggioranza si possono cogliere gli aspetti di un confronto sulle stesse prospettive generali dell'azione economica del governo ieri Bettino Craxi per il partito socialista oggi Pietro Longo per il partito socialdemocratico hanno sottolineato la necessità di puntare ora agli investimenti e all'occupazione abbandonando la politica del rigore puro e semplice una politica che viene attribuita in particolare alla democrazia cristiana e alla democrazia cristiana ad esempio si riferisce l'onorevole Covatta membro dell'esecutivo socialista per dire polemicamente che l'accordo ha sconfitto i fautori del cosiddetto bipolarismo che cercavano di cavalcare un possibile scontro sociale insomma pur in un quadro più disteso non mancano elementi e spunti di discussione nei prossimi giorni si riuniranno gli organi direttivi di tutti i partiti e da Montecitorio è tutto grazie Liguoro ci ha riferito appunto dei riflessi politici di questa intesa che comunque passa ora all'esame degli organi del sindacato e della Confindustria c'è già stata su questa intesa un primo sì a Milano il direttivo regionale unitario della Lombardia lo ha espresso a stragrande maggioranza con soltanto 5 voti contrari su oltre 200 presenti il presidente della Confindustria Merloni riunirà mercoledì il comitato di presidenza e nella settimana prossima è inseduta straordinaria la giunta soltanto allora sarà possibile verificare se le riserve espresse da alcuni settori industriali saranno state assorbite da una più meditata valutazione di questo accordo per i sindacalisti non ci sono dubbi lo ha ripetuto ancora oggi il segretario della CISL Pier Carniti ha detto che in contrasto con quanto avviene negli altri paesi industrializzati in Italia viene garantito il salario reale dei lavoratori a favore dell'intesa hanno votato nella CGL i componenti della corrente di Nuova Sinistra il cui leader Elio Giovannini ha voluto oggi ricordarlo con una specifica dichiarazione altri giudizi positivi sono stati espressi dalla Confesercenti e dalla Confapi le organizzazioni dei cosiddetti quadri intermedi si sono invece divise favorevole all'intesa e la Union Quadri contrario il Sin Quadri è diventato un tema nelle nostre vite uscito dal dialogare tra gli esperti e ha perso chissà se questo è un bene la cautela dei tocchi diplomatici i missili in Europa ne parlano i cittadini in risposta ai sondaggi d'opinione ne leggono ogni giorno dalle dichiarazioni che vengono dall'Est dagli uomini che vengono in visita in Europa dalle controrisposte dei responsabili europei dall'attesa che circonda l'imminente ripresa dei negoziati di Ginevra tra Stati Uniti e Unione Sovietica inevitabile che ne parlassero i ministri degli esteri europei alla prima riunione di quest'anno domani il tedesco Genscher presidente di turno andrà a parlarne a Washington dopo i colloqui con Gromico Abonne Emilio Colombo ne ha parlato tra l'altro con il francese Chesson in entrambi la volontà di non permettere alle parole del Cremlino di fomentare divisioni prima ancora di tradursi in proposte concrete al negoziato dice Colombo primo non vi è da parte di nessuno alcun mutamento o incrinatura rispetto alla doppia decisione Nato del 79 e questo l'Unione Sovietica dovrebbe comprendere al di là dell'ovvio interesse a influenzare le opinioni pubbliche secondo la garanzia della pace resta nella dissuasione anche nucleare e è legata al più stretto rapporto tra Europa e Stati Uniti e terzo la conclusione del ministro degli esteri italiano l'azione negoziale va perseguita con il massimo impegno a Ginevra ma in caso di uno scacco l'altro elemento della doppia decisione del 79 si attuerebbe cioè l'installazione dei primi missili in Europa occidentale si apre dunque l'era del petrolio selvaggio sembra proprio di sì dopo il fallimento oggi qui a Ginevra della conferenza dell'OPEP l'organizzazione dei paesi esportatori la conferenza ha urtato negli stessi scogli sui quali naufragò un mese fa a Vienna questi scogli sono tre il primo la proposta di ridurre nuovamente la produzione per sostenere i prezzi il che significava una torta più piccola da spartire fra i 13 paesi membri il secondo la ricerca di un accordo sulle quote singole di produzione cioè sulle dimensioni della fetta di torta che sarebbe toccata ogni paese terzo scoglio i nuovi prezzi del greggio di qualità più pregiata nell'immagine la conferenza stampa finale del presidente dell'OPEP il nigeriano Dicco la conferenza sembrava disposta ad abbassare il tetto della produzione a 17 milioni e mezzo di barili al giorno un milione in meno di quella attuale ma non è invece riuscita a mettersi d'accordo né sulle quote né sui prezzi ancora una volta l'OPEP si è spaccata in due da una parte i quattro paesi del golfo guidati dallo Sheikho Yamani il rappresentante dell'Arabia Saudita l'abbiamo visto passare e dall'altra i nove rimanenti paesi che cosa succederà ora? il ministro degli Emirati Arabi Said Aloteiba qui nell'immagine ha risposto adesso ognuno farà come gli pare il che significa che probabilmente si scatenerà la guerra dei prezzi i quali dovrebbero ribassare se l'offerta rimane di molto superiore alla domanda una situazione questa che però è direttamente legata alla crisi industriale ai primi accenni di una ripresa economica in occidente i prezzi del petrolio torneranno di nuovo a salire ciò che dovrebbe consigliare ai governi di non rallentare la ricerca di energie alternative le delegazioni libanese israeliana e americana si sono incontrate questa mattina a Caldea sud di Beirut per la nona sessione della trattativa israelo-libanese i diplomatici erano appena arrivati nel piccolo albergo che li ospita quando un ranzo catiuscia da 107 mm è stato sparato contro un posto di controllo israeliano distante 300 metri un soldato israeliano è rimasto ferito secondo un portavoce militare di israele il razzo sarebbe stato sparato dal settore controllato dagli americani un ufficiale dei marines ha però escluso in modo assoluto questa possibilità i lavori della commissione sono tuttavia continuati e si sono conclusi nel pomeriggio un comunicato congiunto emesso al termine dell'incontro dice che sono stati discussi aspetti generali della politica dei due paesi in riferimento alle questioni di sicurezza fonti informate affermano che israele insiste per mantenere il controllo di tre località nel libano meridionale dove impiantare stazioni elettroniche di controllo dei movimenti militari in una vasta area che comprende anche parte della siria i libanesi escludono la possibilità che gli impianti siano controllati da israeliani mentre sarebbero disposti a vederli affidati agli americani o alla forza multinazionale dopodiché il governo di gerusalemme ha respinto questa proposta il mediatore americano Habib ha lasciato israele per riferire a Reagan il quale sarebbe contrariato per la lentezza con la quale il negoziato procede secondo alcuni osservatori non è escluso che le pressioni americane su israele si facciano più pesanti la settimana prossima quando Habib tornerà in medio oriente in Portogallo è crisi politica i partiti si preparano ad affrontare le elezioni anticipate che si svolgeranno molto probabilmente nella seconda metà di aprile dopo la decisione del Presidente della Repubblica Ramaglio Eanes di sciogliere il Parlamento il primo ministro di missionario Francisco Pinto Balsemão leader della coalizione di centro-destra alleanza democratica che ha governato il paese negli ultimi tre anni ha manifestato l'intenzione di rimanere in carica fino al giorno del voto le recenti dichiarazioni dei sovietici a proposito di armamenti non hanno convinto l'opinione pubblica occidentale è il risultato di un sondaggio dell'istituto Gallup per conto del settimanale americano Newsweek il quale ha anche rivelato una certa diffidenza verso gli Stati Uniti in alcuni paesi europei anche la Pravda organo del Partito Comunista si occupa di armamenti per sostenere che se non si raggiungerà un accordo a Ginevra i sovietici non resteranno inattivi di fronte all'installazione dei missili americani è iniziato a Varsavia il processo contro i responsabili dell'emittente clandestina Radio Solidarnosc che fu attiva lo scorso anno a Varsavia dove trasmetteva settimanalmente 160 sacchetti di eroina sequestrati peso complessivo 80 kg per un valore di 16 miliardi e 12 persone arrestate 6 in Toscana 3 a Palermo ed altre tante a Milano questo il bilancio di una grossa operazione antidroga condotta dalla sezione narcotici della squadra mobile di Firenze l'eroina stava per essere spedita in aereo a New York gli agenti della mobile fiorentina hanno bloccato un camion appena uscito da una fabbrica di calzature eccolo appunto conteneva questo camion 160 scatoloni in ognuno insieme a centinaia di scarpe anche un sacchetto di eroina esattamente da 500 grammi secondo gli esperti il sistema deve essere stato già applicato in precedenza lo fa supporre il tenore di vita del titolare della fabbrica Gaetano Giuffrida 42 anni nativo di Palermo ma residente a Prato tenore di vita di gran lunga superiore agli affari diciamo esclusivamente calzaturieri con lui a Firenze sono finiti in carcere anche la moglie ed altri 4 collaboratori gli arrestati di Palermo sono invece tre corrieri quelli di Milano i commercialisti provvedevano cioè ad impiegare il denaro proveniente degli Stati Uniti a pagamento della droga appunto l'operazione è ancora in corso tanto in Toscana quanto a Palermo Milano ed anche New York da dove sono giunte le prime congratulazioni per il brillante blitz è perciò possibile che ci siano ulteriori sviluppi in questi gabbioni della corte d'assise di Genova compariranno domani mattina molti fra gli stessi responsabili dell'assassinio di Aldo Moro e della sua scorta dovranno rispondere di altri sei omicidi compiuti a Genova fra quelle vittime l'operaio Guido Rossa assassinato dai terroristi il 24 gennaio del 1979 a quattro anni di distanza Guido Rossa è stato ricordato questa mattina dai compagni di lavoro nella officina dell'Italseeder di Cornigliano poche e brevi testimonianze per ricordare un avvenimento che ha segnato un momento di svolta nella lotta contro il terrorismo nella città che allora erano gli anni di piombo delle Brigate Rosse venne chiamata ad alcuni certo ingiustamente capitale di quei terroristi con Guido Rossa delegato sindacale militante del partito comunista i brigatisti colpivano un simbolo di quella stessa classe operaia a cui affermavano di rivolgersi da quel momento è stato ricordato ancora questa mattina in fabbrica il rifiuto popolare del terrorismo fu completo inequivocabile e diede sostegno all'azione delle forze di polizia e della magistratura favorendo il colpo decisivo alle strutture militari ed organizzative dei terroristi ma soprattutto alla loro ideologia di sangue nove morti due dei quali completamente carbonizzati irriconoscibili una trentina di feriti e di questi alcuni molto gravi una sessantina di veicoli tra macchine autocarri e camion coinvolti in questa ennesima gravissima sciagura della strada un bilancio pauroso una tragedia causata dalla nebbia che sulla A4 nel tratto tra Verona Sud e Verona Est alle nove di questa mattina in località Palazzina era fittissima si è sollevata un po' soltanto verso mezzogiorno i tamponamenti sono avvenuti in tutte e due le direzioni di marcia della sede autostradale e a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro sono accorse tutte le pattuglie della polizia stradale in servizio dalle province di Padova Verona Vicenza in aiuto ai vigili del fuoco e del soccorso stradale molte vittime non sono state ancora identificate e a proposito della nebbia che è tornata tragica protagonista sulle strade settentrionali dobbiamo aggiungere che tutta la Toscana centrale è avvolta in una cappa impenetrabile che costringe ad un vistoso rallentamento del traffico autostradale la visibilità è ridotta e le previsioni dobbiamo dire non inducono all'ottimismo dunque prudenza per la prima volta dopo un anno il Papa ha ricevuto ufficialmente in udienza Monsignor Paol Marsinkus il discusso presidente dello IOR l'istituto per le opere di religione la banca del Vaticano il nome di Monsignor Marsinkus è stato ripetutamente tirato in ballo lo ricorderete in seguito al crack del vecchio branco ambrosiano si ignorano i temi del colloquio ma non è difficile intuire che si saranno riferiti all'oscura vicenda e anche ai lavori della commissione mista italo-vaticana che è stata costituita il 24 dicembre scorso proprio con l'intento di far luce su quell'affare 12 camorristi armati di mitra e pistole hanno fatto irruzione questo pomeriggio in una clinica privata a Napoli hanno setacciato molte camere e poi sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata secondo gli investigatori si è trattato di un'autentica caccia all'uomo chi cercavano? il commando cercava probabilmente un fratello di Michele Zaza lo vedete in questa foto chi è Michele Zaza? un boss del clan rivale di quello che fa capo a Raffaele Cutolo ma evidentemente erano stati informati male il fratello di Zaza infatti era stato già dimesso quattro persone sono evase questa notte da due carceri in Lombardia i primi due detenuti per reati comuni sono evasi da Lonate Pozzolo presso Varese gli altri due dal carcere di Godogno con una azione così dire da manuale dopo aver immobilizzato e imbavagliato il custode lo hanno rinchiuso nella loro cella impossessatesi delle chiavi si sono dileguati indisturbati quattro persone un medico un'infermiera sua figlia un amico sono state arrestate oggi a Cagliari la scusa è di associazione per delinquere concorso in aborto e peculato da alcuni anni infatti nell'ambulatorio del medico Virgilio Pirastro si praticavano aborti clandestini la tariffa era di 500 mila lire ad intervento Reinald Messner lo scalatore delle vette più alte del mondo tra l'altro senza bombole di ossigeno ha deciso di dedicarsi alla politica non mi batterò a detto per i partiti nazionali ma per una piccola formazione altoatesina nuova sinistra che raggruppa radicali ed ex esponenti dei movimenti di estrema sinistra l'obiettivo che mi prefiggo ha affermato Messner è quello di fare gli interessi dell'alto adige ostacolando il predominio della Volkspartei e della democrazia cristiana Per il secondo anno consecutivo l'azienda agricola Italia ha chiuso i suoi conti in perdita la produzione è calata dell'1% sono diminuiti i redditi dei coltivatori penalizzati dalla maggiore crescita dei prezzi dei beni e servizi acquistati rispetto a quella dei prezzi dei prodotti venduti le campagne continuano a spopolarsi è aumentata del 5% la disoccupazione dei lavoratori dipendenti il 10% dei coltivatori diretti ha chiuso le aziende e abbandonato i campi insomma anche per l'agricoltura è crisi siccità alluvioni il disimpegno pubblico sul piano del credito e dei finanziamenti sono all'origine di questa recessione la cui entità è stata delineata con ampiezza di dati in un dossier della Conf Coltivatori i recenti provvedimenti governativi aiuteranno l'agricoltura ad uscire da questo stato di crisi? Probabilmente no e anzi dobbiamo dire senz'altro di no infatti noi abbiamo protestato innanzitutto per il modo come questi provvedimenti sono stati presi senza coinvolgere le categorie interessate come è avvenuto per le altre categorie di lavoratori noi però non vogliamo sottrarci all'obbligo di fare la nostra parte per aiutare il paese a uscire dalla crisi chiediamo perciò che il governo abbia una maggiore attenzione per il settore e agisca di conseguenza con i provvedimenti che deve adottare c'è qualche altra formula che potrebbe servire per aiutare l'agricoltura? infatti noi diciamo occorrono finanziamenti e crediti adeguati alle esigenze produttive del settore occorre inoltre una maggiore efficienza delle strutture dello stato preposta all'agricoltura e maggiore coraggio a Bruxelles quello che specificamente chiediamo è che all'agricoltura sia dato almeno un flusso di investimento pare a quello che l'agricoltura dà per produrre la ricchezza nazionale il ritmo di aumento del costo della vita che in dicembre aveva leggermente rallentato si è rimesso in movimento e a correre lo si ricava dai dati delle città che anticipano di qualche giorno le rilevazioni mensili rispetto agli indici nazionali in particolare Torino Bologna e Trieste a Torino i prezzi al consumo sono aumentati questo mese dell'1,3% a Bologna dell'1,2% a Trieste dell'1,3% con i vecchi punti della contingenza lo scatto sarebbe dunque a febbraio non più di 13 come si era previsto sulla base dei dati di novembre e dicembre ma di 14 punti con il nuovo sistema stabilito nell'accordo dell'altro ieri tra governo sindacati e imprenditori scatteranno 4 nuovi punti pesanti corrispondenti in termini monetari a 27.200 lire l'orde mentre i 14 vecchi punti corrispondevano a 33.445 lire è stata depositata questa mattina presso il tribunale fallimentare di Milano la relazione del commissario giudiziale del gruppo Rizzoli nel documento che sarà illustrato all'assemblea dei creditori assemblea che si svolgerà il 31 dicembre gennaio prossimo è definita preoccupante la situazione del gruppo editoriale che negli ultimi tre mesi ha accusato perdite per oltre pare 300 miliardi di lire oggi oggi intanto sono state annunciate nuove nomine alla Rizzoli Giancarlo Mondovì è stato nominato direttore generale in sostituzione di Bruno Tassandin che comunque resta amministratore delegato sciopero domani in tutte le scuole di ogni ordine e grado indetto dal sindacato unitario CGL Cislewil non aderisce il sindacato autonomo SNALS sciopera invece la Cisnal l'agitazione è stata decisa per protesta contro i tagli al bilancio della pubblica istruzione e per il rinnovo del contratto è ripreso stamane lo sciopero dei 65 mila medici ospedalieri italiani l'agitazione è interessata oggi la medicina e le specialità mediche domani sarà la volta dei reparti di anestesia dei laboratori di analisi e di anatomia patologica mercoledì e giovedì lo sciopero sarà generale la Zanussi azienda leader nel settore dell'elettronica di consumo ha confermato la messa in liquidazione del gruppo Ducati la decisione riguarda 1200 lavoratori di Bologna e di Pontillo per la gravità del problema la federazione lavoratori metalmeccanici ha chiesto l'intervento del ministro dell'industria Pandolfi la settimana valutaria si è aperta con un forte rialzo del dollaro che in Italia ha sfondato nuovamente il muro delle 1400 lire la moneta statunitense è stata quotata in chiusura 1421 lire e 70 centesimi contro le 1395 lire e 50 centesimi di venerdì positivo l'andamento in borsa per effetto soprattutto dell'accordo tra sindacati e imprenditori l'indice ha registrato a Milano un incremento del 2,71% il primo troncone del cosmos tre tonnellate e mezzo è precipitato la scorsa notte senza causare alcun danno nell'oceano indiano a sud est dell'isola di Diego Garcia alla deriva nello spazio è rimasto ora il reattore nucleare con ancora qualche etto di uranio dai 49 kg iniziali e i residui della fissione un materiale radioattivo dunque ma i sovietici assicurano che quando rientrerà nell'atmosfera tra il 3 e l'8 febbraio il reattore del cosmos brucerà completamente senza causare quindi contaminazione per tutta la giornata navi ed aerei americani distanza Diego Garcia hanno cercato senza trovarli frammenti e tracce di radioattività nella notte dalle navi poste in stato di allerta erano stati visti precipitare i rottami del satellite in fiamme il cosmos è caduto alla 23 e 21 italiane quasi alla stessa ora e non lontano dal luogo il mare di Oman indicato dai sovietici tre giorni prima 23 gennaio 1933 nasce Liri l'istituto per la ricostruzione industriale ieri ha compiuto 50 anni e attraverso la sua storia si può leggere la storia dell'economia italiana e delle stesse vicende politiche del paese il professor Pasquale Saraceno allora giovanissimo era mezzo secolo fa il numero due dell'Iri e nell'istituto svolge ancora oggi un ruolo di prestigio professore perché è nata Liri la radice dell'Iri si trova proprio nel modo come è solta l'industria italiana l'industria italiana nasce con un certo ritardo rispetto alle altre industrie europee e già nel 21 cade in crisi quando c'è la cronazione della banca italiana di sconto e questa crisi continua fino al 33 Liri è chiamata a risolvere la crisi bancaria e che cosa fa trasferisce nella sfera pubblica il comando dell'industria che fino a quel momento erano rimaste nei bilanci delle banche dopo la guerra le industrie dell'Iri erano sfasciate come si è riusciti a superare la crisi le chiedo questo professore perché la situazione anche oggi non è felice sì però era una crisi di altra natura nel dopoguerra l'Iri si trovò più danneggiato più colpito delle industrie private perché gli stabilimenti del gruppo erano ubicati nel mezzogiorno sulle coste avevano subito quindi i bombardamenti erano in buona parte industrie belliche e quindi subirono veramente dei danni e dopo la guerra vi fu la necessità di convertire industrie belliche e danneggiate in industrie di pace e questa prova oggi tutti sono d'accordo e ritenere che sia stata superata brillantemente oggi? oggi il discorso diventa più complesso perché siamo di fronte a una situazione che un tipo di crisi che il mondo non aveva ancora conosciuto la crisi del 33 io ricordo bene era la crisi dei paesi del mondo occidentale era la crisi regolata la nostra crisi il resto è andato a posto l'Iri si trova in questi anni in difficoltà come del resto è in difficoltà l'economia italiana si riuscirà ad uscire da queste situazioni io ho sempre presente nel lavoro che ho fatto nella mia vita che il futuro è inconoscibile la sua domanda la interpreterei in questo senso siamo noi in un ordinamento che permette di affrontare nelle condizioni migliori queste difficoltà oggi non prevedibili io direi che le fondamenta di un ordinamento perché lì li posso operare in maniera efficiente ci sono si tratta di gestirlo questo sistema essendo il problema più importante di distinguere bene le responsabilità del management che è motivato al profitto da quelle del politico che ha pure il diritto di dire la sua essendo quello che fornisce il davaro sono sempre stato essendo nato in mezzo alle crisi ho sempre pensato che ci sarebbe in un modo o nell'altro io ho vissuto la crisi del 1933 e la crisi del dopoguerra è andata bene quindi credo che dobbiamo combattere di buon animo sta assumendo una fisionomia più favorevole alle lancia il 51esimo rally di Monte Carlo che si sta svolgendo in condizioni climatiche ideali per le vetture torinesi con l'assenza quasi totale di neve lungo il percorso le avversarie più temibili della lancia rally sarebbero state le piccole Renault 5 Turbo ma dopo la quinta prova i due equipaggi più temibili sono già fuori gara si tratta di Ragno T vincitore dell'edizione 81 uscito di scena per un incidente nel corso della prima prova speciale e del suo compagno di squadra Terrier che si è dovuto ritirare per un guasto meccanico non riparabile nella quinta ora mentre ci si accinge a disputare la terza tappa che consiste nel percorso comune Monaco Val-Le-Bain-Gap-Monaco e che inizierà poco dopo mezzanotte in testa alla classifica c'è la Audi 4 dello svedese Blomqvist seguono la Opel Ascona del francese Frecklin e le tre lancia di Roerl Alain e André mentre in sesta e settima posizione si trovano le altre due Audi a quattro ruote motrici di Micola e della Mouton che non troveranno a meno di un improbabile cambiamento delle condizioni atmosferiche il loro terreno di gara preferito sia la neve e il ghiaccio la terza tappa si concluderà nel primo pomeriggio di mercoledì sembra proprio che il bel tempo non voglia abbandonare le nostre regioni questo è quanto appare sulla carta del tempo dove si va sempre più stabilizzando una vasta area di alta pressione che include ormai quasi tutta l'Europa non sono presenti perturbazioni che possano interessarci a breve termine e la settimana dovrebbe trascorrere senza sorprese se si escludono temporanee condizioni di variabilità sui settori orientali della penisola l'immagine del satellite mostra chiaramente questa favorevole situazione con cielo quasi sereno sia sul Mediterraneo che sull'Europa centrale la fascia bianca perturbata è visibile a sinistra e si estende dall'Atlantico alla Gran Bretagna lambendo appena le zone continentali ma vediamo le previsioni per i prossimi giorni per domani martedì nebbie al nord in Valpadana e nelle valli minori e cielo sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni banchi di nebbia notturni saranno presenti anche nelle zone basse del centro sud temperatura stazionaria o in lieve aumento venti deboli variabili e mari quasi calmi o poco mossi per le successive giornate di mercoledì e giovedì l'inconveniente maggiore sarà ancora costituito dalla scarsa visibilità nelle valli del nord dove saranno possibili gelate notturne bel tempo sui settori tirrenici e sulle isole maggiori e annuvolamenti temporanei sulle venezie e lungo il versante adriatico nel corso della giornata di venerdì è probabile un certo peggioramento dalla parte adriatica con qualche pioggia locale tempo stabile sui settori occidentali della penisola sulla Sardegna e sulla Sicilia la tendenza per il fine settimana ribadisce la presenza di nubi intermittenti e brevi precipitazioni sulle zone nord orientali e sulle regioni che si affacciano all'adriatico tempo buono con qualche nube stratiforme è previsto invece sul resto d'Italia due i grafici di oggi il primo include le regioni nord occidentali quelle tirreniche e le isole maggiori escludendo le nebbie che potranno ridurre le ore di sole soprattutto al nord la linea scorre orizzontalmente in corrispondenza del cielo sereno o poco nuvoloso solo al termine della settimana potranno comparire nubi stratiformi che tuttavia non modificheranno granché le condizioni atmosferiche vediamo ora il tempogramma relativo alle zone più orientali della nostra penisola si comincia con tempo buono seguito per mercoledì e per giovedì da una parziale variabilità che dovrebbe accentuarsi nella giornata di venerdì variabilità che potrà essere accompagnata da qualche pioggia locale per sabato e domenica non sono però da escludere più ampi rasserenamenti per il fine settimana avremo comunque modo di proporre il consueto aggiornamento venerdì prossimo rapidamente le principali notizie di questo telegiornale è finito questa mattina a Roma il processo di primo grado per il delitto Moro e altri delitti erano gli anni dei piombo delle Brigate Rosse a Roma soprattutto e in Italia 32 gli ergastoli per gli imputati maggiori in quello che è il primo grande processo delle Brigate Rosse nel loro insieme e la loro sanguinosa strategia quello che non è stato chiarito in aula sul caso Moro cercherà di chiarirlo una quarta istruttoria toni distesi nella maggioranza dopo l'accordo sul costo del lavoro in settimana consiglio dei ministri che doveva tradurre in provvedimenti di legge i principali contenuti dell'accordo firmato governo sindacati e imprenditori il sabato scorso a Bruxelles sono state confermate dai ministri degli esteri europei le decisioni sugli euromissili forse siamo all'era del petrolio selvaggio infatti non c'è stato accordo a Ginevra nella conferenza dell'OPEC sul petrolio praticamente fallita la via della droga è stata scoperta anche a Firenze passava anche per Firenze diretta negli Stati Uniti chiusa dentro scatole da scarpe 80 kg di eroina sequestrati arresti anche a Milano a Firenze e Palermo si attendono gli sviluppi questo è tutto l'aggiornamento di questa notizia nelle prossime edizioni del TG2 stasera grazie dell'ascolto e a domani grazie a tutti